... Ed eccoci con la signora Olga Bisera, l'organizzatrice di questa serata. Beh, più che organizzatrice, ideatrice del premio Luciano Martino, che è stato mio compagno per gli ultimi dieci anni. Sì, e l'abbiamo fatto già l'anno scorso, la prima edizione. Quindi questa è la seconda edizione. La seconda edizione. Ci vuole ricordare il suo compagno? Qualche aneddoto? Ma veramente stasera lo ricorderemo. Lui sicuramente, essendo stato sempre molto modesto, avrebbe sorriso e avrebbe detto no Olga, lascia stare. Sicuramente sarebbe stato imbarazzato. Ma io penso che sarebbe piaciuto anche a lui. Ma penso che dalla sua sicuramente sarà felice. Di soddisfazione ci avrà, di sicuro.